Attenzione, avvisiamo che l'ascensore al binario 1 è momentaneamente fuori servizio. Attenzione, avvisiamo che i premi dai Perudine Treviso e Venezia subiranno ritardi fino a 40 minuti o da reazioni per un intervento delle forze di polizia nei pressi della linea tra le stazioni di Casarsa e Bordenone. Attenzione, avvisiamo che dal 30 ottobre o l'8 dicembre, per lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di ospitale di Cadore, alcuni treni regionali della linea Padova-Belluno-Calalzo e della linea Venezia-Conegliano-Calalzo subiscono modifiche. I canali di vendita Trenitalia sono aggiornati. Attenzione, avvisiamo che dal 29 ottobre al 5 dicembre 2022 per lavori di manutenzione ordinaria sulla linea Venezia-Udine alcuni treni regionali saranno cancellati nella tratta Udine, Casarsa e sostituiti da bus. I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati. per lavori di manutenzione straordinaria, se non si sceglie il problema è un'efficienza di un'efficacia, che non si sceglie il problema è un problema. I canali di vendita di Trenitalia sono stati e sono stati e sono stati e sono stati e sono stati Annuncio ritardo. Il treno Nikviet 2-3-7 di Evidi, delle ore 7 e 58, proveniente da piena Uppano e diretto a Venezia Santa Lucia, arriverà con uno ritardo previsto di 100 minuti per cause sveglenti da terrori estere. Annuncio ritardo. Il treno regionale 16-7-9-33 d'Italia, delle ore 15.07, proveniente da Unine e diretto a Venezia Mestre, arriverà con uno ritardo previsto di 55 minuti per un intervento delle forze di polizia nei pressi della linea. Grazie. 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 Grazie.